Buongiorno a tutti, benvenuti al consueto appuntamento di fine anno, che organizza per conferire il riuscimento a quelle personalità che si sono contraddistinte per un impegno positivo ed esemplare nel mondo nei più frasi. Per New Reporter ci troviamo a Barcellona Pozzoricotto, al centro di riabilitazione Anfield per la consegna dei riconoscimenti alle personalità che si sono contraddistinte per l'aiuto alle persone più fragili. Il 2023 è certo stato un anno intenso che non privo di soddisfazione, anche se non tutti gli obiettivi che ci siamo. Cosa significa per voi dare questi riconoscimenti? Per noi significa manifestare quello che siamo, cioè dire che crediamo in certi valori che sono fondanti già nella vita comune senza bisogno di entrare nello specifico di quel che facciamo noi. Perché se entrassero nel cuore di tutti questi valori, la società non sarebbe quello che è oggi. E appunto noi facciamo questo perché ci crediamo. Perché è importante fare le cose non per timore di pena o speranza di ricompensa, come dice in qualche articolo di legge che ci governava quando faceva il mio precedente lavoro. Ma per intima persuasione della loro intrinse che ha necessità. Quindi noi siccome abbiamo sempre creduto in quello che facciamo, ma per dare agli altri, per cercare di far fronte a queste necessità che noi abbiamo acquisito e ricevuto già sette anni fa. Per questo siamo nati come associazioni di famiglie e siamo un'associazione di volontari. Si tratta di una realtà ormai nuova che si sta consolidando e che va sostenuta ed aiutata perché questo tipo di organizzazione, soprattutto quando c'è una spesa di energia fisica ed economica da parte del privato, occorre sostenerla perché il tema, l'argomento è di una particolare sensibilità. La diversità, questo argomento, deve essere il piano centrale, un profilo centrale non soltanto per l'amministrazione ma per la società in genere. Ricordiamoci che la stessa Costituzione che ci indirizza verso una situazione di uguaglianza che si sostanzia principalmente anche in questo. Inclusione, aiuto nei confronti dei più deboli e queste in realtà spesso sono condizioni di debolezza. Ho inteso raccogliere l'invito del Presidente a farmi carico di un breve intervento sulla sezione, non tanto e non solo, per onorare il lungo rapporto di fiducia reciproca che mi lega a questa famiglia. Quanto perché ritengo corretto e indispensabile non venire meno nel portare il giusto contributo in un momento cruciale nella storia di questo sodalizio. L'Anfield è un'associazione che fa volontariato ma è anche impegnata nel settore della riabilitazione e quindi ogni anno decide di individuare all'interno del panorama locale personalità che hanno uno spirito che si confà a quella che è la nostra associazione, a quelli che sono i principi che animano la nostra associazione. Quest'anno è toccato a un luminare della neuropsichiatria infantile, il professor Gheedano Tortorella, che non credo abbia bisogno di particolari presentazioni e a un'attrice regista come Giovanna Manetto che con la sua compagnia Volere Volare ha rappresentato un importante esempio di integrazione di ragazzi diversamente abili all'interno dello spettacolo e del teatro. E' un prestigioso riconoscimento da parte di questa associazione. Sì, sono molto contenta di questo, per me il premio è mio e dei ragazzi, la compagnia Volere Volare è una compagnia di teatro neanche mi piace più dire compagnia di integrazione, di inclusione, è una compagnia teatrale a tutti gli effetti è formata da 30 ragazzi, abbiamo fatto un bellissimo spettacolo il 26 novembre al teatro Vittorio Emanuele di Messina e questo è stato un riconoscimento che ci hanno voluto dare e di cui sono molto fiera, ne sono fieri anche loro che sono qui presenti con me e si esibiranno oggi in dei piccoli spezzoni di spettacolo. Oggi non ho mangiato neanche una polpetta, una ne vorrei, solo una, col sugo ma anche in agrodolce sfumata col vino, con la cipollata, con la mollica, ai ceci, di carne, di pesce, di ricotta, di zucchine, fritta, al forno o bollita una polpetta, solo una polpetta, invece niente, sto a dieta, meno male che almeno posso ballare certo, se avessi un paio di scarpette adatte, da qualche giorno mi sento osservata spero che quell'ongra amatola non ci sia messo niente in testa, io non voglio nessuno, l'amore non mi interessa buongiorno principessa ecco, parli del diavolo questi sono per te principessa avrei preferito un piatto di polpette io, io sono venuto qui da te col cuore in mano guarda, lascia stare, non sono in vena di integrazione io oggi sono proprio arrabbiata posso chiederti che cosa ti è successo principessa? una cosa gravissima oh principessa eh sì, sono stati grandiosi, abbiamo preparato uno spettacolo quasi in un mese e mezzo perché era uno spettacolo che sarebbe dovuto andare in scena a giugno invece per motivi vari ed eventuali è stato spostato ed è stato inserito in cartellone il cartellone del Teatro Vittorio Emanuele, quindi sono stati spronati e un po' anche eh massacrati dalle prove perché chiaramente in un mese e mezzo e non credevo veramente di di riuscire ad avere il risultato invece che abbiamo avuto i ragazzi sono stati strepitosi sul palcoscenico, presenti ehm tutti, tutti, tutti e trenta hanno fatto un lavoro grandioso che neanch'io veramente mi aspettavo dopo così poco tempo invece devo dire che hanno rispettato i tempi, le battute e sono, ormai sono degli attori non riesco a definirli in altro modo se non questo, sono veramente degli attori unisse, non appena ripartirai non dimenticare che uno dei terricoli più grandi ancora prima dei mostri, scine e caritti sono le sirene, con loro canto, con loro voce, suave, ammagaro e marinai per poi lasciarli morire stai attento Ulisse, tappa le orecchie dei tuoi uomini con la cera il mare sarà calmo, il sole caldo come le nostre giornate a sud il cielo tesso senza nuvole le sirene non perdonano, faranno di tutto per tirare la vostra attenzione ma voi Ulisse procedete nel vostro viaggio senza fermarsi Anne, aspetta, non scappare via cosa vuoi da me? Non ho niente da dirvi Anne, ascoltami, lascia che ti spieghi lo so, hai sentito tutto mentre dicevo quelle cose a pasta ma credimi, non è quello che penso ah, quindi tu di solito dici cose che non pensi Anne, non è questo e cos'è, sentiamo? non trovo le parole, non riesco a spiegartelo questo l'ho capito, è meglio che io vada magari ne parleremo quando sarai in grado di capire ciò che provi Anne, non scappare via, lascia che ti spieghi hai il diritto di sapere, di avere una risposta io non sono bravo a dire certe cose non sono bravo a formulare delle parole forbite forse per come sono fatto io, per la mia educazione ma credimi, il mio cuore batte solo se ci sei tu perché? perché so che è così te vado, i miei genitori non mi lasciano mai il permesso di vederti statene qui, Anne, ci sono io qui con te, non sei sola ci stemeremo tutto, vedrai mai, mai, mai il teatro rende uguali a tutti e nello stesso tempo diversi loro sul palcoscenico possono essere ciò che vogliono io il lavoro che faccio, che cerco di fare è quello di valorizzare quali sono i loro punti di forza non di debolezza, ma che diventano punti di forza forse i loro punti deboli diventano alla fine punti di forza sul palcoscenico il teatro è bello per questo e dico sempre che loro sono abituati molto a ricevere dai genitori, da chi gli sta accanto invece lì devono dare, devono dare loro qualcosa al pubblico e questo per loro è importante, li rende felici e li rende importanti anche nella società gratificati eccomi, mi preparo per la festa butto via i miei abiti da bugiardo e da uomo inutile ho osservato, ma senza meraviglia ho voluto bene, ma non ho amato ho sentito il vento addosso, ma non mi sono stupito adesso mi riprendo la mia vita ho avuto paura stavo sbagliato tutto ci ho messo un po' ma poi ho capito inutile perdere tempo la vita che ci è stata donata è una sola dobbiamo solo viverla intensamente prenderci tutto l'amore di cui abbiamo bisogno e darmi accertando tutto si è risolto ogni cosa è al suo posto amo questo posto amo i miei amici amo la musica amo la vita questa vita che deve essere ogni giorno celebrata e che non bisogna mai dare per scontato sì, apriamoci all'amore accettiamo nuove sfide capiamo, sbagliamo, soffriamo ma viviamo viviamo intensamente ogni giorno ogni attimo la vita e l'amore sono meravigliose che la festa abbia inizio possiamo dire che è stato bellissimo dal punto di vista sia artistico che umano perché il teatro unisce da molti punti di vista sia dal punto di vista dell'amicizia perché del coordinamento ecco sia dal punto di vista anche sentimentale perché il teatro ci unisce anche da quel punto di vista le emozioni che si provano tramite la recitazione sono davvero davvero tante è stato bello salire sul palco un po' come quando si vince il Gran Premio d'Italia io sono appassionato anche di Formula 1 sono contento di essere entrato in questa compagnia perché io e la mia ragazza siamo nuovi e quindi l'essere un aspirante attore in questa compagnia è veramente molto bello ringrazio tutti i membri organizzativi della compagnia e spero che i prossimi spettacoli spacchino come ha spaccato questo spettacolo per me è stata un'emozione che mi ha colpito veramente al cuore credo che tutti quelli che meritano di stare sul palco e hanno la possibilità soprattutto di accogliere le persone far sentire il loro sogno ma soprattutto perché l'amore e la passione sentirsi liberi ma grazie all'importanza di questo teatro che mi ha fatto capire tutto quello che noi sappiamo infatti grazie a Giovanna Manetto che mi ha fatto sentire proprio il teatro per come siamo perché grazie a lei possiamo anche continuare la nostra vita e soprattutto continuare a viverla a divertirci perché il teatro è proprio questo sentirci proprio veramente emozionati perché il teatro è questo io faccio ormai teatro da dieci anni con questo gruppo ormai siamo insieme da otto quindi siamo un gruppo siamo una famiglia siamo una famiglia che ci vogliamo bene ci sopportiamo ci sopportiamo e cerchiamo che le nostre emozioni poi di dare emozioni di dare felicità alle persone che ci vengono a trovare che ci vengono a vedere il nostro ultimo spettacolo era molto basato su queste cose noi cerchiamo nel nostro piccolo di fare questo di dare emozioni di dare felicità alle persone come la felicità che proviamo noi mi sono trovata molto bene è la duecentesima volta che salgo sul palco e mi emoziona sempre perché mi piace molto recitare vorrei farlo per lavoro e quindi anche se per me è sempre la prima volta quando salgo sul palco ma è la duecentesima volta che salgo e quindi mi sento sempre più emozionata e mi sento felice ogni volta che saliamo sul palco sono sempre in ansia perché è una cosa che mi piace e voglio fare bene quest'oggi ci sarà anche la presenza del dottor Antoci un personaggio una personalità importante in questo settore in questo ambito sì diciamo che la presenza di Giuseppe Antoci è una presenza che onora questa associazione è una persona che sul tema della legalità ha oramai improntato la propria vita i risultati del protocollo Antoci sono risultati che muovono su una dimensione direi quasi internazionale quindi per noi è veramente un onore averlo qui abbiamo deciso di invitarlo non solo per rapporti diretti di amicizia ma anche perché il vissuto di questa associazione è un vissuto possiamo dirlo di discriminazione noi dopo sette anni due ricorsi al TAR vinti un'attività che fondamentalmente si basa sul volontariato non siamo ancora riusciti a entrare nel sistema sanitario regionale per motivi che a tutt'oggi non ci sono del tutto chiari la presenza di una persona come Antoci ci piace interpretarla come un sostegno da parte di una persona di estrema limpidezza e di estrema chiarezza nel panorama siciliano ed è per noi un punto di riferimento e anche un esempio da seguire grazie per la straordinaria testimonianza di coraggio e di impegno al servizio della legalità da premio a Giuseppe Antoci grazie tanto è un prestigioso riconoscimento anche la sua presenza qui ha un significato molto importante ma guardi il significato è quello di un paese che deve essere ancora di più solidale solidale con questo mondo dove c'è tanta speranza ma anche tanto dolore oggi questo paese vive un incremento molto forte sulla disabilità e seppur impegnato nel risolvere la disabilità deve certamente stare a fianco ad iniziative come questa e soprattutto alle famiglie queste famiglie che vivono difficoltà anche a volte nel dare la possibilità ai propri figli di avere una vita più dignitosa ecco il tema della dignità in questo paese deve essere migliorato e va migliorato con l'impegno di ognuno perché questi non sono solamente temi che possono avere una caratura amministrativa o politica questo per il nostro paese è un tema morale e i temi morali vanno affrontati con concretezza le cose in questo paese vanno fatte prima di tutto per tutelare la dignità delle persone e siccome già in Europa si parla di primo obiettivo quello di non discriminare chi ha problemi di disabilità lo dice l'Italia e la Costituzione solamente lo dice l'Europa allora noi dobbiamo capire che Sicilia vogliamo essere che Italia vogliamo essere che Europa vogliamo essere perché il tema della dignità e il tema della lotta alla mafia non è quello della mafia che spara o della mafia che fa affari ma è quello anche della cultura mafiosa e pensare che certi territori sono diversi da altri e che alcuni devono essere discriminati rispetto ad altri quella è cultura mafiosa allora noi dobbiamo partire da qua e ancora mai perché io non posso immaginare scelte fatte un contesto generale sulla disabilità e sull'aiuto a queste famiglie perché vanno e l'ho detto prima nell'intervista alla televisione vanno applicate nei territori dove c'è bisogno dove le famiglie hanno bisogno altrimenti noi siamo un paese di pazzo e allora se noi noi dobbiamo stare attenti dobbiamo stare attenti ad essere vicini a queste famiglie ma essere vicini a noi stessi guardate il tema della dignità è un tema è una parola che il Presidente della Repubblica ha pronunciato ben 23 volte nel suo secondo insediamento a Presidente della Repubblica italiana e allora 23 volte dignità significa che vedere oggi complimenti vedere oggi questo spettacolo bellissimo che è una carezza al cuore che è un insegnamento e allora noi dobbiamo partire dagli insegnamenti io penso che questa esperienza e questa battaglia che continua per dare dignità anche alle scelte che ognuno di noi fa guardate con normalità questo paese di simboli d'eroe li ha avuti abbastanza io grazie ma io faccio solo il mio dovere ho tentato e tento come dire di dare valore non solo a quella parola ma anche in fondo di essere come dire un buon genitore ecco tentare di incrociare ancora lo sguardo delle mie figlie e continuare a dire loro che la vita va vissuta con rettitudine senza abbassare la schiena e questa realtà non deve abbassare la schiena e se per questo tempo e se per questo tempo un impegno di tutti presidente un impegno di tutti bene tutti ci siamo e ci saremo e tenteremo di far capire a chi ragione con i numeri che con la vita delle persone con le difficoltà delle persone e con i tentativi di discriminazione i numeri non servono servono quando siamo tutti insieme a lottare quindi avanti buone feste a tutti e complimenti per questa bellissima festa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti